Milano è una grossa chance perché ci sono delle bellissime realtà, c'è una bellissima realtà culturale, c'è una mentalità diversa, è molto forte che si sente e il vero problema è fare struttura perché non devono più accadere episodi come due settimane fa c'era Stellark a Milano a fare un workshop e nessuno lo sapeva, infatti anche i miei studenti il giorno prima me l'han detto e bisogna fare sistema, Maria Grazia fa degli incontri bellissimi, mi sono comunicati per fortuna, ma ce ne sono tanti e bisogna continuare a fare sistema e unire tutte queste realtà per riuscire ad avere un'identità. Poi il problema grosso è che c'è queste due italie che sono sia politica, imprenditoria, diciamola così, oppure politica in realtà e poi la vecchia generazione è la nuova, cioè la generazione televisiva è la nuova, in mass media non esistono più, cioè io insegno la catena in mass media e fa un po' ridere perché in mass media non c'è più e c'è un mondo molto passato che continua a comunicare in quel senso e bisogna insegnare invece a vedere i nuovi media e le nuove realtà. Grazie Francesco. Grazie.